La bellissima influencer Emily Ratajkowski ha pubblicato sui social uno scatto davvero bollente che la ritrae completamente senza vili. I commenti di apprezzamenti da parte dei followers sono stati moltissimi e anche la pioggia di liche. Ecco la foto. Emily è solita a pubblicare sui social degli scatti provocanti, bollenti e senza vili. Anche questa volta ha deliziato i suoi fan con un siparietto molto bollente. La ragazza ha pubblicato una foto su Instagram in cui viene ritratta completamente senza vili, coricata su un letto, coperta con delle lenzuola. A coprire il suo abbondante e formoso seno ci sono solo le sue braccia e nel frattempo sorseggia una bevanda. La provocazione è stata colta dai followers, che sono impazziti alla vista dell'immagine. Moltissimi sono stati i commenti di apprezzamento per il suo fisico da urlo e la foto è riuscita a raggiungere più di un milione e mezzo di cuoricini. Non sarebbe la prima volta che la bella Ratajkowski pubblica foto di questo genere, ma d'altronde con un fisico come il suo e quelle curve invidiabili, non deve farne a meno. La modella, dal nome impronunciabile, è solita a provocare i followers e a dare scandali sui social, non sarebbe dunque questa la prima volta. In passato infatti si sarebbe spogliata per protesta contro il presidente Donald Trump. Oppure un'altra volta ha mandato in tilt Instagram e i fan, mostrando una sua doccia bollente e sensuale. Tantissimi invece sono stati gli shooting fotografici che la ragazza ha fatto per lavoro e ha deciso di condividere con i fan, lasciandoli a bocca aperta. Tutti rigorosamente senza veli o coperta da pochi abiti sensuali.